Qui in Liguria c'è un'impresa il cui utile è davvero utile, che ogni giorno opera sul mercato per investire in solidarietà e partecipazione. La sua borsa è piena di valori, ma il suo interesse è condividerli. Per questo restituisce il 97% dei ricavi alla collettività. Coop Liguria è la nostra cooperativa, perché alle società per azioni preferiamo le azioni per la società. Grazie.